Seconda edizione del Contamination Lab dell'Università di Sassari per promuovere la cultura di imprenditorialità, dell'innovazione e del fare. Un'opportunità per gli studenti universitari di costruire il proprio futuro diventando protagonisti. Dal 1 aprile fino al 30 sarà possibile partecipare al bando per la selezione di un gruppo di 60 studenti che saranno indirizzati nella realizzazione dei loro sogni nel cassetto. Responsabile del progetto, il delegato del Rettore per le Attività del Trasferimento Tecnologico, Gabriele Mula. È un programma formativo alternativo a quelli tradizionali che sviluppiamo presso il nostro Ateneo e di cui sta per partire la seconda edizione. Si tratta di un'attività formativa legata alla creazione di impresa. Tra tutti gli studenti del nostro Ateneo che aderiranno al bando che in questi giorni è aperto, noi ne selezioneremo 60 e faremo in modo che studenti provenienti da aree culturali differenti si incontrino, dialoghino e attraverso la contaminazione di idee e di conoscenze sviluppate nei corsi curriculari diano luogo a progetti innovativi che possono portare alla formazione di nuove imprese innovative. L'idea di impresa che lo scorso anno si era giudicato il Contamination Lab ha anche vinto lo step successivo e cioè lo Start Cup classificandosi infine al premio nazionale Innovazione. Si tratta di un progetto per ottenere plastica biodegradabile dalla colla di pesce. Partendo da un'idea coltivata dentro il Contamination Lab, il progetto è ormai decollato.